Bene abbiamo visto anche le immagini e dunque di questa che appunto si può definire un'altra partita sicuramente non fortunata e per l'interno abbiamo visto l'undicesimo legno colpito in questo caso ancora da Lazzaro, ci sta facendo un po' l'abbinamento in queste ultime gare e soprattutto con che pregevole gesto tecnico era stata colpita questa traversa, una traversa che appunto fosse entrata la palla avremo visto e rivisto centinaia di volte questo gol durante la settimana perché effettivamente è veramente un gran bel gol, sarebbe stato un gran bel gol quello di Nunzio Lazzaro. Quello che conta però come ha sottolineato lo stesso Michel Primo a fine gara è che la squadra ancora una volta abbia dimostrato di fare la prestazione, di non temere nessun avversario, di andare a imporre il proprio gioco soprattutto una ripresa al cospetto di una delle prime forze del campionato, abbiamo visto il Cuneo in terza posizione pertanto di questo c'è da essere appunto soddisfatti meno di quello che è appunto il rapporto fra occasioni create e occasioni finalizzate, questo è un po' il male che accompagna Lentella dall'inizio della stagione. Andiamo a vedere i commenti come sempre della rassegna stampa tingendoli come usuale dal sito ufficiale dell'Intella www.intella.it partendo dal secolo XIX, Intella beffata a Cuneo, Amlili, Ludi, Bianco Celeste nella ripresa, inutili attacchi. Poi c'è anche la sala stampa dove il secolo evidentemente non è riuscito a incrociare Luca Prima mentre la gazzetta lunedì è riuscita comunque a intervistare il tecnico, naturalmente la squadra viste anche le condizioni climatiche in atto ha preferito ripartire immediatamente e tornare più fretta possibile a Chiavari. C'è da appunto sottolineare quella che è stata la sportività e l'obiettività di Ezio Rossi che peraltro è un tecnico che non ha bisogno di presentazioni avendo alle spalle un curriculum di tutto rispetto che l'ha visto allenare in serie A e in serie B. Diceva nel appunto aver riconosciuto all'Intella i propri meriti, dice Rossi nella ripresa non siamo riusciti a ripeterci con la stessa intensità e la formazione chiavarese ha trovato troppi spazi. Onestamente devo ammettere che nel corso del secondo tempo l'Intella ha dominato, questo è il commento di Rossi. Un commento che poi è stato un po' ripreso da altre dichiarazioni, intanto ci sono anche le pagelle che appunto per essere stata una partita che ha visto la sconfitta dell'Intella troviamo diversi sette, tutte su Vicenza, diversi sette, diversi sei e mezzo, quindi una pagella tutta sommata positiva come appunto doveva essere vista la prestazione. La Gazzetta Lunedì invece titola Intella fermata da Legni e Sfortuna, Lazzaro colpisce la traversa, il portiere del Cuneo protagonista in meritata sconfitta, questo è il parere unanime appunto anche sulla Gazzetta Lunedì. E anche in questo caso poi come dicevamo c'era il commento della sala stampa con le interviste al mister Prina che come dicevamo prima ha espresso la sua soddisfazione per quello che riguarda la prestazione della squadra un po' meno naturalmente e non poteva essere altrimenti per il risultato. Questo per quanto riguarda la rassegna stampa. Vi ricordo naturalmente che, ne avete sicuramente sentito parlare, in questo fine settimana tutti i campionati giovanili, anche quelli nazionali purtroppo che vediamo coinvolti l'Intella Berretti, i giovanissimi allievi nazionali sono stati, o meglio le partite che erano riferite all'Intella sono state rinviate. La Berretti doveva incontrare il Pisa, il Pisa ha chiesto appunto di evitare questa trasferta seppur vicina, un po' perché c'era da attraversare queste zone così colpite, un po' perché probabilmente anche in questo caso ha prevalso la volontà di non rischiare e anche se poi tecnicamente una partita si sarebbe potuta giocare tranquillamente perché il fondo del comunale, sabato mattina c'è stata la rifinitura della squadra, aveva assorbito assolutamente molto molto bene queste piogge peraltro abbondanti. Mentre le altre due gare, i giovanissimi dovevano andare a giocare sul campo del Genoa, qui ovviamente è molto comprensibile la scelta di non giocare, mentre gli allievi che avrebbero dovuto ospitare la Valenzana a Chiavari, anche in questo caso hanno ricevuto la richiesta da parte della formazione piemontese di evitarsi questa trasferta. Anche il Basso Piemonte è stato colpito duramente nella giornata di sabato dalle piogge abbondanti e quindi diciamo che comunque era una situazione a rischio e si è preferito naturalmente evitarla. Tutti invece i campionati regionali erano già stati preventivamente sospesi a partire da venerdì sera, quando la situazione si sapeva sarebbe diventata comunque molto difficile. Quindi un fine settimana se vogliamo di riposo o comunque di pausa per tutto il calcio giovanile riguardante naturalmente la parte bianco celeste, e così come tutte le formazioni come abbiamo detto riguardanti i campionati regionali e provinciali della federazione del Comitato Regionale Ligure, quando appunto il Presidente Sonno venerdì ha preferito sospendere tutta l'attività per una settimana e evitare naturalmente qualsiasi tipo di disagio, anche perché poi sarebbero state tantissime le partite non disputabili e di conseguenza poi sarebbero stati tempi di recupero, eccetera, eccetera. Si è preferito naturalmente ancora una volta evitare tutte queste difficoltà che inevitabilmente sarebbero emerse al cospetto di questa giornata di tempo assolutamente ineclemente. Non resta altro a questo punto che andremo a vedere la prossima giornata di campionato, sarà la tredicesima per quanto riguarda il Gironea naturalmente, abbiamo già detto dell'incontro che metterà di fronte l'Intella alla Valenzana, un incontro da non sottovalutare, come peraltro non sono mai stati sottovalutati i precedenti, quella piemontese è una squadra che ha alternato risultati buoni e meno buoni, però ha una classifica tutto sommato con 10 punti, ancora pericolante, di conseguenza avrà più che una motivazione per cercare di venire a chiave e sapare punti, come è fatto per altri in passato, una squadra che soprattutto in trasferta si chiude molto e quindi difficili, ancora una volta saranno determinanti gli episodi e soprattutto quindi le palle inattive che l'Intella ha dimostrato in queste settimane di saper curare molto bene e crediamo che mai come in questa occasione ce ne sarà necessità. Vediamo il quadro completo con Bellaria pro patria, alto tunno casalingo per la formazione romagnola che ospiterà appunto la squadra di Busto, Borgabuggiano-Giacomense-Casale-Savona, anche questa è una partita dal sapore antico, se non fosse che appunto Savona attualmente sta attraversando una crisi societaria ancora irrisolta e che per la verità non trova all'orizzonte grandi vie d'uscita. C'è stata anche qualche, chiamiamolo ultimatum, qualche scadenza lasciata e lanciata dagli attuali dirigenti perché la squadra, la società è meglio, è indietro di tutti e quattro le misilità pagate che si sarebbe dovute pagare fino a questo punto. Pertanto c'è appunto il rischio che o da parte dei giocatori la società venga messa in mora o comunque da parte della federazione ci sia poi l'inizio di una lunga serie di penalizzazioni come accade lo scorso anno per la propria patria o ancora peggio il rischio di non poter proseguire con le spese in questa stagione e quindi che la formazione potesse addirittura chiudere i battenti anticipatamente. Questo naturalmente è quello che tutti pensano si possa scongiurare. Staremo a vedere se la realtà Savonese che ora naturalmente è impegnata su altri fronti potrà trovare al suo interno una soluzione per cercare di evitare una fine ingloriosa a questa società. Ancora Casale-Savona, dicevamo questo derby o comunque partita che è sempre stata vissuta con grande rivalità fra le due tifoserie. Manto-Varimini, Renate-Cuneo, San Bonifacese-Sant'Arcangelo, San Marino-Montichiari, Treviso-Lecco un'altra partita interessante, ancora in terra-valenziana abbiamo già detto e infine Alessandria-Poggi-Bonsi. L'Alessandria che sarà chiamata a confermare la vittoria che aveva fatto la settimana scorsa poi non ha potuto dare continuità per via appunto della sospensione della gara, del rinvio della gara contro il Savona. Questo è il quadro di quella che sarà la tredicesima giornata. Vi ricordo ancora l'appuntamento di domani pomeriggio 14.30 a Comunale di Chiavari per l'incontro fra Entella e Spezia. Vi ricordo di naturalmente privilegiare sempre la prevendita per evitare poi i code e i botteghini. Naturalmente anche in questo caso, per quello che riguarda anche gli accrediti, saranno redatti normalmente, cioè con la trasmissione dei dati e poi al momento di tirare il biglietto, al contrario dell'altro domenico, ci sarà appunto la corresponsione di quello che è l'importo del biglietto per questa partita, unicamente per questa partita. Vi ricordo ancora appunto che tutto il ricavato di questa gara andrà assegnato in beneficenza alle popolazioni colpite dal recenti alluvioni. È tutto per quest'oggi, vi do appuntamento a martedì prossimo per l'appuntamento con la seconda divisione Lega Pro. Ringrazio Lola Molla in regia e a risentirci. Ringrazio Lola Molla in regia e a risentirci.